I cantieri in contemporanea del centro storico provocano disagi anche alle attività di accoglienza e B&B. L'associazione di Mori Aquilane, che rappresenta attività extra alberghiere, ha presentato otto proposte per migliorare la fruibilità dell'area. In particolare noi chiediamo che venga minimizzato l'impatto del traffico, l'impatto dell'accesso delle auto al centro storico, anche con un contingentamento delle auto, delle imprese che devono accedere, delle maestranze che devono accedere al centro storico, la creazione di quanti più parcheggi possibili all'interno e nelle zone circostanti, parcheggi di prossimità e in particolare anche la zona di cantiere deve essere resa in qualche modo estetica. Come in tutte le città italiane, noi chiediamo che l'accesso ai centri storici da parte degli ospiti delle attività turistiche venga in qualche modo agevolato, cioè che vengano creati dei posti macchina doc sia per l'accesso sia per quanto riguarda anche lo scarico dei merci, dei bagagli da parte dei turisti. L'associazione chiede soprattutto di essere ascoltata e anche la loro categoria vuole attivare un confronto permanente con il Comune dell'Aquila. In questa città, in questa regione c'è molto da fare per il turismo, non vogliamo avere un atteggiamento di critica solo distruttiva, vorremmo fare delle proposte e in questo senso ci interesserebbe avere una consultazione permanente per esempio con l'assessorato al turismo di questa città, perché di idee ne abbiamo tante, siamo tutti quanti interessati a promuovere la città e il territorio perché nella nostra esperienza abbiamo capito che sia l'Aquila che l'Abruzzo sono due entità sconosciute e quando il turista arriva rimane assolutamente meravigliato per la ricchezza culturale, per la bellezza del paesaggio e per, non ultimo, per le nostre qualità enocastronomiche. Abbiamo prodotti enocastronomici di assoluta eccellenza che meritano di essere conosciuti non solo in Italia ma anche all'estero.